La provincia dell'Aquila, in collaborazione con l'Osservatorio Scolastico Provinciale, ha creato una guida che permetterà ai giovani studenti del territorio della provincia di fare un'attenta analisi, quindi una ponderata scelta, per quel che riguarda l'inserimento nella scuola media superiore. Il progetto è stato presentato stamani presso la sede della provincia dell'Aquila ad Avezzano. Ad illustrarlo con orgoglio erano presenti il presidente della provincia Antonio del Corvo, l'assessore alla pubblica istruzione Vincenzo Patrizzi e la coordinatrice Patrizia Di Gregorio. Sa che credo abbiano tutte le famiglie che hanno ragazzi che debbano iscriversi alle scuole media superiori. Poi quest'anno ha maggior ragione perché molti dei corsi previsti nella riforma Germini sono stati attivati per il primo anno, qualcuno è partito già l'anno scorso, come dicevo, musicale, e quindi sono delle nuove attività che se non si portano a conoscenza delle famiglie neanche... Devo dire che questo è già il terzo anno che viene fatto, proprio per dare un'opportunità concreta ai studenti per fare una scelta importante per la loro vita, perché riteniamo che sia per il futuro eventuale per la scelta universitaria o per il mondo del lavoro debbano avere un'offerta formativa più ampia possibile. Può fare anche un lavoro di rete con le università. Noi già abbiamo, dovremmo, avendo un osservatorio scolastico provinciale, lavoriamo e avendo inserito già in questo osservatorio sia dalle scuole dell'infanzia che alle scuole superiori, si pensa appunto con un progetto dei fondi europei di estenderlo anche appunto alla scelta della scuola, appunto, della facoltà universitaria. Questo progetto, già attivo da tre anni, oggi più che mai diventa necessario proprio per l'aumento di nuovi corsi scolastici già da un anno previsti dalla riforma Gelmini. Devo dire che questo è già il terzo anno che viene fatto, proprio per dare un'opportunità concreta ai studenti per fare una scelta importante per la loro vita perché riteniamo che sia per il futuro eventuale, per la scelta universitaria o per il mondo del lavoro debbano avere un'offerta formativa più ampia possibile.